Un re che si è rivelato sulla croce secondo logiche che non sono di questo mondo. Papa Francesco spiega così all'Angelus in Piazza San Pietro la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo. Sottolinea la differenza tra la logica mondana che poggia sull'ambizione, la competizione, combatte con le armi della paura, del ricatto e della manipolazione delle coscienze e la logica del Vangelo che si esprime nell'umiltà e nella gratuità, si afferma con la forza della verità. I regni di questo mondo, aggiunge, a volte si reggono su prepotenze, rivalità, oppressioni, quello di Cristo sulla giustizia, l'amore e la pace. Nel trionfo della croce c'è il fallimento del peccato, delle ambizioni umane, c'è la gratuità dell'amore di Cristo che non salva a se stesso per salvare noi dai nostri peccati. Un amore che evidenzia il Papa ci libera dalle nostre debolezze e miserie, incoraggiandoci a percorrere le strade del bene, della riconciliazione e del perdono. L'invito è di fare come il buon ladrone che si accorse dell'amitezza di Gesù. Al Signore, conclude Francesco, chiediamo di guardarci quando ci sentiamo deboli, peccatori e sconfitti. Di fronte alle tante lacerazioni nel mondo e alle trope ferite nella carne degli uomini, chiediamo alla Vergine Maria di sostenerci nel nostro impegno di imitare Gesù, nostro Re, rendendo presente il Suo Regno con gesti di tenerezza, di comprensione e di misericordia. Al termine dell'Angelo, se il Papa ha ricordato il suo prossimo viaggio in Africa, Kenya, Uganda e Repubblica Centrafricana, ha auspicato che sia nel segno della vicinanza, dell'amore e della pace per quelle terre. Soffermandosi poi sulla beatificazione a Barcellona di Federico da Berga e 25 compagni martiri uccisi Spagna nel secolo scorso durante la persecuzione contro la Chiesa, è evidenziato che ancora oggi c'è chi è perseguitato in nome di Cristo.